Il bilancio è in salute, solido si dice tecnicamente, quindi grazie al lavoro di tanti uffici e quindi andiamo avanti così, ascoltando la città. Le sigle sindacali sono una parte importantissima in questo territorio, ma chiaramente sentiamo tutti, ascoltiamo tutti, perché a 10, 12, 14 occhi si lavora meglio, si fanno meno errori, si fanno comunque, ma se ne fanno meno perché si concerta il tutto. Firmato a fermo presso la sala dei ritratti il protocollo d'intesa sulle politiche di bilancio tra l'amministrazione comunale e le sigle sindacali. La contrattazione ha avuto l'obiettivo di affrontare e avviare le soluzioni che riguardano tutto il territorio, tenuto conto anche dei documenti sottoscritti nel tavolo provinciale per la competitività e lo sviluppo del fermano. Un bilancio che mira a favorire la vita dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda i comparti delle fasce più deboli, la terza età, ma anche la formazione, senza dimenticare anche i 100 mila euro per quanto riguarda i buoni digitali di C-Voucher. La firma del protocollo per il bilancio che cosa significa per il Comune? Significa innanzitutto il mantenimento di un rapporto buono, produttivo, con le sigle sindacali, che ringrazio per l'attenzione, la pazienza e la volontà di collaborare con questa amministrazione su tematiche a 360 gradi, che vanno sull'attenzione nei fasce più deboli, con la conferma delle somme sui capitoli per i servizi sociali, la parte tributaria, quindi il diritto allo studio con la tari, l'abbattimento delle tari per le fasce più deboli, l'addizionale IRPEF che sale da 8.500, o meglio è confermata come l'anno scorso, da 8.500 a 9.000 euro, e l'attenzione alle fasce più deboli agli anziani, alla disabilità, e quindi ci fa molto piacere questo camminare insieme, un camminare insieme che nel protocollo conferma la volontà di aggiornarsi, di sentirsi, di riflettere su temi importanti come il campiglione, sul biodegestore, l'attenzione agli appalti, la loro regolarità, la loro trasparenza. Una novità importante è quella rappresentata dagli appalti, infatti nei bandi di gara per i servizi e i lavori, l'amministrazione prevederà che i concorrenti indichino le componenti del costo del lavoro e della sicurezza nell'offerta. Ma l'offerta è economicamente più vantaggiosa, che va a premiare la qualità, e su questo si punta l'attenzione, all'amore per le nostre ditte, per i nostri lavoratori, verso il proprio territorio.